Nonno, ho paolo? Sì, ma è una giornata molto fredda, freddissima. Ora... Ah, mi vedi quella? Senti, a cosa? Ma chi ti ha detto, hai visto cosa è con me? Andiamoci, andiamo. Senta, Dica, dove va? Dica! Aiuto! Aiuto! Dov'è? Chi? La bambina, la ballerina, quella cosa? No, mia nipote, la bambina, la bambina, è dovuta... Chi è? Sua bambina, bellissima! Ma sì, è Gagliarda! Dai il volantino, lunedì fieco qua a Cina città. Allora? E l'ho... Che è questa sera dafalo? Qu'è? E l'ho... Per Uh...